3, vai! Buonasera, benvenuti, sono Marco Mazzucchi, ho 21 anni e vengo da Nanni, la città dei Papi. Ed è proprio da lì che grazie ad alcuni amici bartender ho iniziato a intraprendere questa carriera che adesso è diventata la mia vita. Per l'occasione, per assoluto e per tutti voi, ho preparato un cocktail fresco ed estivo. Non a caso il suo nome è Summer Sensation. Gli ingredienti che lo rappresentano sono essenzialmente due. I mandarini cinesi, che andremo a costare, e il basilico al limone. Che cos'è il basilico al limone? Non ho fatto nessuna manipolazione in realtà, è una cosa che si stende in natura, quindi adesso ve lo vorrò assaggiare. Innanzitutto, mettiamo i mandarini cinesi, mettiamo con tutta la puccia, in modo che il sapore acido della polpa, il gusto dolce e aromatico della puccia si uniscano per creare un'estrosione di gusto in vitamina. Aggiungiamo il basilico al limone. Lo attasciamo. E come ha detto qualcuno prima di me, potrebbero uscire già gli essenziali e mettiamo libero a mano e lo freddo. Andatevi dall'altro drink, ci pensa a tutti il mandarino, un aggiunto frottato e aromatico. Andatevi dall'altro drink, a rock'n'roll, with memories, baby. Andatevi dall'altro drink, a rock'n'roll. Andatevi dall'altro drink, a rock'n'roll. Andatevi dall'altro drink. Andatevi dall'altro drink. Vedete come tutti i colori dei miei ingredienti hanno contribuito a donare a questo costel per un'ondata di freschetta. Parliamo con un fruffetto di basilico al limone perché anche il naso vale la sua parte in modo da poter cominciare a gradire questo costel da prima che lo tocca.